Un evento voluto fortemente dall'Arcesco di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti, con il patrocino del Comune e organizzato al Centro Culturale di Pescara e dalla Paspartura, quello in programma domani sera alla Sala Consigliare del Comune. Da un'idea del docente all'Università Gabriele D'Annunzio Giuseppe Fidelibus con la regia e l'adattamento di Milo Vallone, la neonata compagnia Attori per Caso mette in scena Bariona o Figlio del Tuono, racconto di Natale per cristiani e non credenti. Domani sera alle 21 alla Sala Consigliare del Comune di Pescara. Tratto dal testo di Jean-Paul Sartre del 1940, scritto in un campo di concentramento, una delle migliori espressioni della natività da parte peraltro di un ateo, Bariona arriva in teatro dopo la versione cinematografica dal titolo Anno Zero, dello stesso Milo Vallone che dopo i tanti riconoscimenti in giro per l'Italia e l'estero, si cimenta nella affascinante sfida di far recitare una compagnia non di attori ma di appassionati allo straordinario messaggio di speranza che traspare da questo testo. Nessuno di loro si era mai avventurato con il linguaggio teatrale, non è un'associazione, una realtà, una commistione di realtà tra le quali la Passepartout e il Centro Culturale di Pescara che mi hanno chiesto, avendo già frequentato molto questo testo di Sartre, di curare la regia e l'allestimento di questa edizione teatrale. È la prima volta nella mia vita peraltro che mi trovo a dirigere non attori, quindi abbiamo condiviso prima un percorso breve ma intenso da un punto di vista formativo, abbiamo cominciato in primavera, per poi arrivare nella seconda fase di questo percorso a allestire, proprio a segnare i personaggi e cominciare quella che si chiama appunto la fase delle prove, per poi arrivare a questo appuntamento. Ci sono dei dialoghi in cui è bella questa novità della nascita che si contrappone in qualche modo alla disperazione, alla vecchiaia che in qualche modo prende e ti trascina verso il nulla e quindi per me è stata un'avventura sotto questo punto di vista. Fania Ponziani nel ruolo dell'angelo che è un ruolo, se vogliamo, nella storia fondamentale. È un angelo come terreno, quindi come tutti gli altri pastori, però appunto fa questo annuncio della nascita e cerca di convincere il popolo ad abbandonare Bariona, che è il protagonista, e di andare appunto a Betlemme.